Durante sta campagna elettorale noi di Libero scopriamo che questa signora, nonostante che la sua famiglia abbia due o forse tre proprietà, aveva occupato una casa nel 2008 con l'Aller che dice, qui mancano 90.000 euro. Lei che fa? Dice, no ma io sono stata solo nel 2008, non ci sono le prove. No, noi di Libero mandiamo un nostro cronista sul posto e una signora che abbia dice, no ma questa c'era, io l'ho vista per 5-6 anni fino a prima del Covid. Poi siamo andati a vedere la casa dove lei ora risulta residente e lì non risulta, non sceglie. Nel frattempo il padre ci insulta dalla mattina alla sera, peraltro il padre è un signore molto divertente che era liberale prima di fratogliannizzarsi e se andate a rivedervi i suoi tweet di quando era liberale sono fantastici, quando si parlava di occupazione diceva ai comunisti voi appena c'è una proprietà altrui andate ad occuparla, quello che è mio è mio, quello che è tuo è mio. Era fantastico, era meraviglioso, sarebbe stato da questa parte il dibattito, adesso invece sta a pappeciccia con questi. Aspetta che non finisce qui. Dopodiché la Salis, Santilaria, perché ormai è una santa, viene portata in processione, una grande santa che fa miracoli, dice che occupare è resistenza, che è anche logorante, e quindi io mi aspetto che ora chiedano un sussidio, non so, il reddito di occupanza, vogliamo fare una cosa di questo genere, e poi dice io non tolgo niente a nessuno. Ah, non togli niente, e quindi quelli che sono in graduatoria sono tutti fessi, sono tutti scemi, e si continua, poi viene fuori che il suo partito occupa a sua volta e non paga nessuno. Ma la storia, ci metto 40 secondi, non finisce mai a Roma per darti l'idea del livello a cui stiamo. Da dieci anni c'è un immobile occupato, da un centro sociale che si chiama Spintime, una decina di anni fa sono andati in abbanda, rompono i sigilli, si portano come sempre in questi casi, un'anziana, una donna, eccetera, occupano 200 appartamenti illegalmente, cominciano a riscuotere fitti abusivi, pizzo, cominciano a fare illegalmente mescita di vino, ristorante, discoteca, mix, remix, arriva pure l'elemosiniere Vaticano che ieri attacca la corrente, tanto paghiamo sempre noi, eccetera. Che fa la sinistra? Va lì, in quel posto, a fare le primarie per sindaco di Roma, con Gualtieri, poi diventato sindaco, che era allora ministro uscente dell'economia, che interloquisce con questi e diceva, avete sollevato un problema importante, cioè, aspetta, vanno poi in consiglio comunale, votano una mozione per dare la residenza agli abusivi, capito, tu sei abusivo e ti do la residenza perché c'è un'esigenza sociale, la frase è, c'è un'esigenza sociale, signori, con questa cosa dell'esigenza sociale, allora anche un rapinatore, se usciamo qui e ci rapina, c'ha l'esigenza sociale e lo giustificate, vergognatevi e pagate! Prego, Luca Sommi.